Una prima e seppur parziale risposta al problema del verde in via San Paolo, nel quartiere di Santo Spirito. La segnalazione di alcuni residenti della zona, ai nostri microfoni, non è passata inosservata dalle parti di Palazzo Mezzabarba e nei prossimi giorni, come confermato dall'assessore alla partita Massimiliano Cocca, il comune di Pavia mette in campo un primo intervento. Il problema è ormai noto da tempo e riguarda la crescita fuori controllo delle piante poste lungo tutta via San Paolo. Una fioritura eccessiva che ha causato diversi problemi a numerosi cittadini, i cui balconi affacciano sulla strada. Le immagini che abbiamo raccolto nelle scorse settimane sono piuttosto eloquenti, mostrando come i rami in più di una situazione vadano a finire direttamente all'interno delle abitazioni. L'amministrazione può mettere in campo un primo intervento tampone, anche se per la putatura si dovrà attendere la finestra adatta. Io accetto le richieste dei cittadini, chiaramente abbiamo verificato. La situazione con la crescita delle piante in primavera è forse un po' eccessiva. Ho contattato SM e nei prossimi giorni interverremo sicuramente sfrondando alcuni rami che entrano nei balconi delle proprietà private, ma come sapete le potature possono essere fatte dal mese di ottobre a arrivare al mese di marzo, perché in questa fase non è possibile fare delle potature strutturali dell'albero. Però sicuramente un piccolo intervento di risagomatura e di messa in sicurezza rispetto alle proprietà private verrà fatto nei prossimi giorni da SM.